Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa, oggi 27 giugno. La cosa fondamentale di questa rassegna stampa è ovviamente tutto il gran casino della Sea Watch. Quello che è successo ormai lo sapete tutti, la capitana che è diventata una specie di mito per tutta quanta la sinistra progressista, che non avendo come i suoi rappresentanti del Rio, Calenda, Zingaretti, ovviamente io capisco perfettamente che preferisca questa rastona tedesca, figlia di papà come dice Giorgio Gandola, ma come dice lei stessa, perché lei stessa si definisce ricca, che ha potuto fare tre università, parla cinque lingue, ha potuto occuparsi degli albatross invece che dei panini da vendere da McDonald's, quindi una donna fortunata, insomma quella da sinistra ha finalmente trovato il suo mito, il suo mito è questa capitana. Io non riesco bene a capire come sia possibile se tu c'è da una parte capitana e dall'altra capitano, se c'è da una parte la tedesca e c'è da un'altra parte l'italiano, l'italiano Salvini, grezzo, truce, come lo definisce il Ferrara, come si possa stare con la nave tedesca. È al di fuori di ogni mia immaginazione e guardate non c'entra soltanto il fatto che questa qui chiaramente sta provocando l'Italia, non c'entra il fatto che questa qui sta violando le leggi, non c'entra il fatto che questa qui non rappresenta nessuno in questo paese, non rappresenta probabilmente nessuno nel suo, non c'entra il fatto che questa qui è una arrogante perché io se mi presento senza documenti in motorino, senza casco mi fanno un culo così, non c'entra nulla questo. Quello che c'entra è semplicemente che in un paese normale tu devi stare col tuo paese sempre e comunque se c'è qualcuno che viola leggi di quel tuo paese. È la base insomma di una democrazia. Poi puoi combattere democraticamente contro il paese del truce, puoi votare contro Salvini, ma finché ci sono delle norme fatte dall'Italia e realizzate dall'Italia tu stai con l'Italia fino a prova contraria. Non ti fai prendere per il culo da una ragazzina che decide di decidere di fare la politica migratoria per cavoli suoi. E poi che cosa leggo sui giornali? Il favoloso Gad Lerner. Gad Lerner mi fa orrore. E prima le liste di proscrizioni sui giornalisti e poi il suo inutile programma che ci fa sentire tutti quanti in colpa, ma insomma pagato da tutti quanti noi. Ma oggi si permette di scrivere nelle prime tre righe, ma cosa penserà di Salvini la madre di Salvini? Io penso, ma cosa penserà di Lerner, la mamma di Lerner? Cosa pensa? Si può iniziare un pezzo in maniera così disgustosa? Lerner dimostra di essere quello che lui fa sempre finta di combattere, un fascista. Un fascista ma di sinistra, quindi secondo me è un complimento. Lui è uno stalinista, uno che si permette di iniziare un pezzo dicendo che cosa pensa la madre di Salvini, di Salvini riguardo a questa vicenda, io dico quello che pensa uno che non conosce Salvini. Pensa che Salvini è il nostro ministro degli interni, pensa che questo è stato violato una legge italiana e pensa una cosa molto banale che non riesco a capire perché i giornali non scrivono. Questa signora si fa dieci anni di galera, come se lo fa uno stupratore, come se lo fa un corrotto, come se lo fa un omicida, come se lo fa uno che favorisce l'immigrazione clandestina. Non ci vuole molto capirlo, sta violando una legge votata dal Parlamento italiano, fatta dal governo italiano. Quindi il fatto che la madre di Salvini possa essere più o meno con Salvini mi interessa poco, mi sembra molto più disgustoso quello che scrive Lerner. Bay sulla stampa, sempre il giornale della stessa casa editrice, stampa e Repubblica sono la stessa casa editrice, ma non pensate che sia diverso il Corriere della Sera. La ragazza coraggiosa, chiunque abbia un cuore non ci mente molto a capire con chi sta. Eh no, chiunque abbia un cuore, io penso di avere un cuore e penso di capire con chi sto, e cioè sto con Salvini e non con questa ragazza, perché chiunque abbia un cuore capisce che non è il problema dell'Africa risolto con queste 42 persone che vengono fatte sbarcare in Italia. Al contrario, si alimenta ancora di più la tratta. In più l'unica persona che si è salvata è l'egocentrismo di questi quattro cazzoni tedeschi con le navi olandesi, figli di papà, che possono fare una battaglia per loro importantissima, ma che non risolve assolutamente il dislivello culturale, sociale, economico, politico che esiste tra l'Africa profonda e la Germania dove nasce questa signora. Chiaro, non cambia nulla. E poi chiedo a Francesco Bei e chiedo anche al direttore di Francesco Bei, che mi ricordavo essere un grande filo israeliano, Molinari, tutti quei pezzi diciamo di difesa dei duri israeliani contro i bambini che lanciavano i sassi dell'Intifada, te li ricordi Molinari? Con chi sta il cuore? Con i bambini israeliani, povero che lanciano i sassi contro i cattivoni israeliani, sionisti, quasi nazisti per qualcuno, Lerner e tanti altri, con chi stai Molinari? Stavi con gli israeliani che difendevano i loro territori da Hamas o stai con i bambini palestinesi che ci hanno tutta la stampa democratica ci ha raccontato essere vittime della cattiveria ebraica? Con chi stai? In questo caso stiamo con la capitana, mentre nell'altro caso stiamo con gli israeliani. C'è qualcosa che non funziona, Molinari, in questo tipo di atteggiamento. Non accetto il fatto che si possa dire che chiunque abbia un cuore sta soltanto con la capitana. Vi consiglio un libro stupendo che tra poco troverete sul mio sito che si chiama Empatia, che vi fa capire il senso della foto di oggi del padre e della figlia annegati nel Rio Grande e il titolo del manifesto. Il titolo del manifesto, adesso ve lo leggo, è la foto che accusa Trump in Messico. Quella foto non accusa Trump in Messico. Quella foto sarebbe potuta avvenire negli ultimi cento anni, perché ci sono sempre i messicani che sono voluti andare in America e ci sono sempre purtroppo i messicani che sono morti. Non viene accusato Trump. Viene accusato che esiste una parte del mondo ricca e esiste una parte del mondo povera e che la parte del mondo ricca non può portarsi a casa tutto il mondo povero perché non risolverebbe problemi né degli uni né degli altri. Ma questo non è avere cuore, è avere cervello e capire col cervello quello che sta avvenendo. Mentre la capitana è diventato il nostro mito. Ferrara si offende perché segue una diretta di Salvini, che è chiaramente una diretta popolare, non parla bene come Ferrara, non ha letto neanche un decimo delle cose che ha letto Ferrara, ci ha lavorato, è una persona straordinaria nella sua cultura. Ma la cosa che non capisce talvolta Ferrara, come direbbe lui, in una giornata di pessimo commercio, è una giornata in cui si è svegliato evidentemente male Ferrara. Dice che Salvini insulta la capitana e insulta perché l'ha definita, com'è che l'ha definita? Aspettatemi che ve lo dico subito, la sbruffoncella. Allora nella diretta ieri Salvini definisce questa capitana sbruffoncella. Nel frattempo il giornale di Ferrara, che si dispiace che viene definita sbruffoncella, una sbruffoncella, io avrei detto anche di peggio, bene, la definisce sbruffoncella, il giornale di Ferrara definisce da mesi il ministro degli interni, votato da milioni di italiani, il truce. Allora io sono per la possibilità di definire Salvini il truce e mi batterò perché tutti lo possono definire il truce e sono contento che Salvini non quereli quei quattro deficienti che lo definiscono il truce. Sto scherzando, deficienti, questo si da querela. Cioè, in un paese libero si può definire Salvini il truce, ma non accetto che chi definisce Salvini il truce pensa che Salvini, quando definisce questa capitana sbruffoncella, la stia insultando. Non sta insultando nessuno, sta dicendo in maniera edulcorata quello che è questa ragazza, una sbruffoncella, che a casa mia si chiama delinquente perché sta violando le leggi italiane e per di più lo fa consapevolmente. Non mi tirate fuori la tragedia greca. Questa sta facendo consapevolmente un reato e quando si fa un reato si pagano le conseguenze del reato. Chiaro? Punto. Questa deve andare. Quanto prevede la legge? Dieci anni di galera? Cinque anni? Sei anni? Lo dici da un magistrato. Ciao core, voglio vedere i magistrati che mettono in galera sta sbruffoncella. Non li troveremo. Dall'altra parte poi trovi un governo che ti fa cadere le braccia. La questione dell'ILVA di Taranto è di una gravità incredibile. Ieri l'amministratore delegato dell'ILVA, che sarà un olandese, pensate quanto mi sta simpatico a Londra, dice noi l'ILVA la chiudiamo il 6 settembre, perché dal 6 settembre questo governo di cazzoni, ignoranti, ha messo nel decreto cosiddetto crescita una legge per cui toglie lo scudo penale ai nuovi proprietari dell'ILVA. L'ILVA è ancora sequestrata, gli impianti sono sotto indagine, secondo questa magistratura italiana illuminata. Quindi, secondo se questo scudo penale viene a mancare, i nuovi amministratori dell'ILVA rischiano di pagare per quello che è successo nel passato nell'ILVA e hanno a che fare con questi magistrati che ogni tanto perdono la brocca. Voi fareste l'amministratore di un'azienda per cui voi rischiate di andare in galera un giorno sì un giorno no? Ve lo dico io, no. E quindi questi che hanno detto, l'acciaio sta andando male, abbiamo tante altre cose, ciao Italia, tenetevela voi, l'ILVA, 15.000 famiglie a casa, non produciamo più acciaio, l'1% del PIL, tanto che gliene frega Di Maio, può andare nei convegni insieme a quell'altro a Toninelli a dire abbiamo reso, pulito, eccetera, non abbiamo più l'industria energivora e tutte ste minchiate qua. Poi dopo 15.000 famiglie ci pensano loro, li fanno fare i navigator che non sono riusciti a trovare. Ma ovviamente questa cosa si scoprerà fra un anno, due anni, tre anni, quattro anni e loro avranno distrutto, come peraltro, altri hanno distrutto Pagnoli e faranno la stessa fine di questa Italia deindustrializzata fatta dai Di Maio, dai navigator, da questi cazzoni che pensano che il lavoro si crea con l'assistenza. Bricco, oggi sul Sole 24 ore, racconta meglio di tanti altri cosa sta succedendo in questo periodo, nel frattempo abbiamo Travaglio che si le prende con le Olimpiadi, le solite cose di questa sinistra intelligente. Toninelli che vuole togliere le concessioni alle autostrade perché non sono state neanche condannate, sono ancora alle indagini preliminari, però lo Stato vuole rompere il contratto con le autostrade che hanno perso in porsa, che non investiranno nulla e pensano chi le gestisce le autostrade loro. Toninelli le facciamo destire a un'azienda pubblica come quella a Roma. Oggi il tempo titola, dopo 246 giorni le scale mobili di Piazza della Repubblica non sono state ancora messe a posto, hanno riaperto la stazione della metropolitana, ma le scale sono ancora transennate. Noi vogliamo affidare l'Italia a queste belle partecipazioni pubbliche, magari gestite da gente come la Atac, dalla Raggi, da Gadlerner e non a questi cattivi privati che fanno cadere i ponti. Guardate, sono sconfortato perché è un paese in cui si stacca la capitana, si chiude l'Ilva e abbiamo un ministro che vuol togliere le concessioni prima di un processo, è un paese morto, morto. Io spero che ci siano tanti che mi stanno ascoltando, che se ne siano andati via, via. Perché io amo gli italiani, ma l'unica possibilità che abbiamo è di andarcene via anni luce, da Ferrara, anni luce.